Terminata la stagione sciistica 2012-2013 nelle principali stazioni sciistiche della Valle d'Aosta, nonostante il manto nevoso sia ancora abbondante sopra i 1700 metri. Soddisfatti gli operatori del settore per l'affluenza sulle piste e le buone nevicate che in tutto il periodo hanno offerto un'ottima sciabilità. A Broi Cervigna sci scia ancora con pista aperta e compreso il rientro in paese. Fino a mercoledì 17 aprile Federica Brignone riprende gli allenamenti sugli sci dopo il lungo stop. L'intervento chirurgico alla caviglia ha infatti fermato per alcuni mesi Federica che ora riprende gli allenamenti. La campionessa di sci Federica Brignone nata a Milano ed ora residente a Courmayeur con questo stage inizia di fatto la preparazione tecnica in vista della prossima stagione invernale. La pista scelta è la nuova nera 62 situata nella zona dell'area Cretaz, raggiungibile anche con le seggiovie dal centro paese di Cervigna.